Caccia la cala d'oro, trovare case che possono rendere molto bene a livelli americani anche in Italia Quello che facciamo normalmente guardiamo i commenti degli ultimi video Scelgo un commento e facciamo la ricerca in mercato Se oggi clicchiamo record, eccoci qua Questo è l'ultimo video che abbiamo fatto, Raleigh, North Carolina Qui vediamo un paio di città americane che faremo anche a versione americana Ma quella che colpisce più di tutti è Trieste Sì, Trieste, città che non ho ancora fatto, città che secondo me potrebbe essere interessante Perché iniziamo a guardare Iniziamo sempre dalla tipica analisi che faccio sempre Innanzitutto la popolazione, 204.000 persone di tutte le città che abbiamo fatto fino adesso Probabilmente quella più grande Quindi qualcosa di buono, abbiamo tanta gente Una società diciamo abbastanza stabile Non è che abbiamo una crescita, una decrescita abbastanza stabile Quindi contro il trend italiano di una popolazione che inizia a scendere Passiamo all'economia Economia allineata più o meno all'Italia Siamo al 0.9% nel 2023 Anche nel 2024 allineata con l'Italia Quindi niente di speciale ma neanche niente di negativo Ultima cosa che tendo a guardare normalmente ragazzi È lo studio È una città con diciamo università, con una popolazione grande Sì, le università ci sono La zona è questa qui Non è verso diciamo il porto qua dietro Questa è la zona dell'università Che tra l'altro è un campus enorme Infatti se guardiamo la quantità di studenti sono 21.000 Quindi 200.000 abitanti ma 21.000 studenti In questo caso quindi può significare che se non troviamo un affitto buono Per l'affitto normale a famiglia Sicuramente comprare una casa con più camere e affittare a studenti Potrebbe essere anche una buonissima alternativa Perché fino adesso ogni volta che c'è una città di studenti Quindi quando abbiamo valutato questa opzione qui Tendeva ad essere più profittevole dell'opzione dell'affittare a una famiglia Quindi abbiamo visto questa è la location Se questa è la location io partirò direttamente con gli studenti universitari Quanto costa una casa in affitto? Dai 200 euro a seconda della location Ma a vedere questa zona qui che è verso il centro Che penso che sia diciamo quella più appetibile per lo studente Che vuole essere abbastanza vicino all'università per andarci diciamo a piedi Ma anche vicino al centro per divertirsi E quindi in questa zona mediamente ho visto le camere dai 400 ai 550 A seconda di location e situazione della casa E quindi io mi concederò esattamente là Quindi sì appunto questa è la location della camera che ho visto Ed era 450 però è una casa messa molto male Ed è una casa molto vecchia Ok passiamo agli affitti normali Come vedete qui il range dai 4.25 ai 1.100 4.500 per gli appartamenti di lusso ma queste sono case molto costose Un'altra cosa a cui tendo a guardare spesso è il costo di entrata Siccome sono giovane io voglio parlare anche ai giovani E farvi vedere diciamo posti dove potete magari accedere al mercato immobiliare con molto meno E quindi lasciamo perdere gli affitti super costosi Guardiamo gli affitti intorno ai 500 1.100 e quindi passiamo alle case Come prezzo case ho messo come limite 160.000 Se no qui iniziamo a avere tantissima roba sparsa che ci può confondere Guardiamo un po' i numeri Dai 72 ai 150.000 Quindi è un mercato comunque accessibile E anche a vedere le case poco costose Ragazzi se guardiamo le vendite qui 69.000 Quindi è un mercato molto accessibile Non è un mercato troppo costoso Se lo pensiamo in termini di diciamo mutuo Quanto ti verrebbe un mutuo del genere Non riusciamo a calcolarlo Qui il mutuo ideale per te Quindi in una casa da 100.000 euro con un anticipo al 30% Mutuo di 70.000 La rata ti verrà intorno ai 334 Quindi questo è giusto per farvi capire i numeri Ok ora guardiamo le due case che ho selezionato Innanzitutto un trilocale Perché un trilocale? Perché trilocale vuol dire che posso avere due camere che posso affittare a studenti La terza normalmente è il salone In questo caso non si capisce se sono tre vere e proprie camere con un salone O se posso diciamo trasferire la terza camera a camera Perché diciamo il salone e la cucina potrebbero essere considerate una cosa separata Una cosa che ho visto spesso con le case studenti Dove direttamente il salone viene trasferito a camera a seconda del layout In teoria questo potrebbe fare ma rimaniamo conservativi Cosa significa? Che posso affittare due camere 500 ognuna Una casa a 100.000 dollari Che sta sul mercato dal inizio di marzo Quindi sta qui da fresco Uno condominio di 40 euro al mese Ricordiamoci che io voglio rispettare la regola dell'1% Quindi voglio che un mese di mensilità affitto Valga almeno l'1% del valore della casa In questo caso se la casa riesco a prenderla a 95 99 sarebbe il limite Ma 95 per darti un po' di margine Per magari ripittarla e così Potrebbe essere un buon investimento diciamo iniziale Perché abbiamo questa regola dell'1% rispettata E vi dirò non sarebbe troppo male Soprattutto perché è una casa molto accessibile E con 30.000 di investimento vostro Avreste un mutuo di 334 euro Un condominio di 40 euro Quindi netti Diciamo senza considerare tasse così State intorno ai 7.200 all'anno Che non è malissimo Soprattutto per un italiano Considerando che lo stipendio medio netto È di 15.000 all'anno E che aggiungete quasi la metà del vostro stipendio Oltre a quello che pagate di mutuo La seconda casa guardato Era un monolocale ragazzi 69.000 euro Che è in vendita da Questo qui 2023 Quindi in vendita tanto Quindi già so che qui potete negoziare Un prezzo migliore Perché ho scelto questo monolocale Perché se guardiamo i monolocali In questa zona qui Che ho visto Casa in affitto Siamo qua I monolocali stanno intorno ai 600-700 euro al mese Il che vuol dire che anche qui Riusciamo a rispettare la regola dell'1% Che è molto bene Con un investimento molto più piccolo Se ne guardiamo qui 550-490-1200-500-900-1100 Appunto fluttano un pochetto Il monolocale non mi sembra messo malino Ovviamente un po' di aggiunte potrebbero aiutarlo di brutto C'è il mercato Sembra vissuto Quindi non è messo al massimo Immobili nuovi O non immobili Immobili nuovi Piccoli investimenti Potete fare qualcosa di veramente carino Sempre vicino all'università E potete sicuramente prenderlo a meno di quello che è listato qua La casa è in vendita da mesi Il venditore vuole vendere Secondo me se da 69 ti presenti a comprarla con 60 o 55 È una casa che puoi affittare tranquillamente a 600-650 Addirittura 700 Con un condominio di 18 al mese E se calcoliamo il mutuo pure qua Abbiamo detto 50.000 Quindi vuol dire mutuo da Facciamo un mutuo da 45.000 Che vuol dire che hai una rata di 214 E netti ti metti in tasca 500 Quindi soprattutto se comparato alla prima versione del bilocale Che affitti a studenti In monolocale in questo caso In tasca in proporzione ti metti molto di più Soprattutto dopo al costo della tua rata Sì la casa più grande ti metteva in tasca 600 al mese In questo caso ti metteresti in tasca 500 al mese Ma c'è un mutuo che è un dico la metà ma quasi E ha un investimento che è molto più basso Quindi metti a rischio molti meno soldi Ragazzi per mettere tutto insieme Il mercato di Trieste mi piace molto E' poco costoso E' molto accessibile Quindi abbastanza semplice per uno che inizia Il costo dei condomini non mi sembra spropositato Come altre città come Milano Quindi non si mangia troppo i profitti I ritorni sono buoni Le case che rispettano la regola americana del 1% ci sono Ci arrivi vicino magari la sorpassi di poco Ma quel punto diciamo di partenza ce l'hai E che ti permette di avere molto più margini d'errore E quindi come mercato ragazzi mi piace molto Se ci ho azzeccato e siete in Trieste lasciatemi sapere se ci ho azzeccato o scagliato in pieno Se volete analizzare altri mercati lasciate quei commenti Anche piccoli paeselli li ho fatti in passato E avevano anche ritorni buoni Quindi non vi preoccupate non solo le grandi città Se vi piace quello che faccio lasciate un subscribe E ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Ciao